Sono anch'io felice di essere qui oggi in questa data, giornata mondiale della sicurezza sul lavoro, in questo evento organizzato nella università per cui lavoro da tanti anni, di cui mi sento parte, mi sento parte appunto di una squadra, sono anche uno sportivo, non proprio calciatore ma pallavolista, comunque quello che conta in una squadra è lo spirito di squadra, per cui uno più uno, spesso non fa due ma fa qualcosa di più e questo veramente credo sia importante.